La notizia, ricordate il decreto Flussi, ricordate appunto che lo scorso mese, dal 9 al 27 marzo, c'è stata questa possibilità per le aziende italiane di utilizzare il cosiddetto click day del decreto Flussi appunto per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato. Abbiamo delle cifre più o meno definitive rispetto all'andamento di questa operazione, sono oltre 252.000 le istanze trasmesse appunto dai datori di lavoro. Le quote previste dal provvedimento sono 82.705. Il numero maggiore di istanze pervenute riguarda la Campania, da cui sono arrivate 109.716 domande, seguita da Lazio 20.879, c'è una differenza enorme, e Veneto 20.661. Le domande sono state tutte regolarmente acquisite, a quanto pare senza criticità, per fortuna, dalla piattaforma telematica del Viminale, il Ministero dell'Interno. Si sta già procedendo a distribuire gradualmente, per ambito provinciale, a ciascun sportello unico per l'immigrazione, le domande che sono state presentate dai datori di lavoro che hanno indicato il nominativo di ciascun lavoratore nel rispetto delle nazioni di provenienza riportate dal decreto Flussi e il relativo settore di impiego. Le istanze verranno a questo punto istruite tramite un sistema informatico dedicato nel rispetto, appunto come dicevamo, dell'ordine cronologico e nel limite delle quote che saranno poi comunicate in via telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.